La nuova tappa sarà domenica prossima, quando nelle singole diocesi del pianeta si aprirà la fase preliminare del sinodo, quella che metterà al centro le chiese locali e la base per una consultazione che faccia della partecipazione reale e concreta, come è stato chiesto dal Papa, la priorità assoluta. Un sinodo in modalità decentrata, con un itinerario triennale, scandito dall'ascolto, dal discernimento e dalla consultazione. La prima fase, dall'ottobre 2021 all'aprile 2022, si svolgerà a livello locale. Parrocchie, associazioni, movimenti, congregazioni, ogni corpo ecclesiale è chiamato a riflettere sulla sinodalità e a preparare un documento di sintesi in dieci pagine da far arrivare alle conferenze episcopali di riferimento. Poi, da settembre 2022 al marzo 2023, la fase continentale, con il dialogo sul testo del primo instrumentum laboris. Infine, la terza e ultima tappa del cammino sinodale, nell'ottobre del 2023, la sedicesima assemblea generale del sinodo dei Vescovi, a cui farà seguito la fase attuativa che coinvolgerà nuovamente le chiese particolari. Un programma ambizioso, di vasto coinvolgimento, che permetterà al popolo di Dio di camminare insieme, come indica il termine greco, sinodos, e come ha ricordato ieri Papa Francesco, aprendo solennemente questa avventura ecclesiale.